Comercianti, residenti, lavoratori della zona partiranno tutti a piedi e attraverseranno il ponte di Volta Barozzo, ormai simbolo della battaglia contro le rotaie, e percorreranno via Facciolati unendosi agli altri comitati. Chiedono che il sindaco Giordani gli ascolti, basta con le decisioni prese senza consultare i cittadini. Manifestiamo per la mancata partecipazione dei cittadini di tutti quanti della zona di Volta Barozzo, Facciolati, ma anche di Roncaglia, Canestrini, Crescini. La mancata partecipazione alle decisioni del comune, che continuano a essere calate dall'alto senza neanche chiedere una minima disponibilità o anche informazione su quello che si vuole fare. Nel mirino della protesta il tram, o meglio la rotaia, che costringe a lavori invasivi sulle strade. Molto meglio i mezzi elettrici, ma prima bisogna conoscere il percorso effettivo del progetto, che sembra non sia stato ancora deciso. Attraverseremo il famoso ponte di Volta Barozzo, ci riuniremo con il comitato No Tram di Via Facciolati e continueremo la passeggiata fino all'incrocio di Santo Svaldo, davanti alle poste, dove potremo parlare e spiegare le nostre ragioni. Il timore è che le decisioni siano già prese, almeno quelle più importanti. Tra polmoni verdi a rischio, residenti che potrebbero vedersi le rotaie passare davanti alla porta di casa e viabilità in tilt, le paure sono molte. Il comune non dialoga, se dialoga, dialoga solamente con la parte che gli può dare ragione, cosa che non siamo certamente noi.